Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua, stiamo andando a Mantova, che stasera c'è la serata strict food, è iniziata ieri sera e va fino domani sera? Sì. Sì? E in più c'è la notte bianca, sempre a Mantova, quindi abbiamo deciso che, dato che domani è la festa della mamma, poi in settimana c'è anche il mio compleanno, abbiamo deciso di andare a mangiare allo strict food, poi andare alla notte bianca, vediamo un po'... E poi in discoteca, dai, via, botta unica, andiamo anche in discoteca. E poi alla balla e siamo a posto? Eh beh, facciamo 30, facciamo 31, poi poi facciamo 32. E poi vedi a tanti persone. Niente ragazzi, ci vediamo dopo, ciao ciao! Eccoci qua ragazze dopo un'ora, passate in macchina, per trovare un parchè, un posto uno, cioè un'ora di macchina. È stato terrificante stavolta venire a Mantova, a un certo punto eravamo anche sull'idea di rinunciare, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo desistito e siamo arrivati. Adesso a piedi, open, dobbiamo andare dalla parte opposta di Mantova, esatto, per andare in piazza virgiliana dove c'è lo street food e dopo, mangiato, ci sono aperti i negozi. Sono già aperti? Cioè, ragazzi, aspettate, vi faccio vedere, cioè guardate, per andare alla stazione dei treni di Mantova è un macello, cioè per questa manifestazione è un macello. A dopo! Qui siamo in piazza Sordello, vi faccio vedere proprio un piccolissimo scorcio di quello che è, che ci sono tutte le bancarelle. e continuiamo la nostra passeggiata verso piazza virgiliana. Ragazzi, stiamo tornando verso la macchina. Siamo nel parcheggio, quello sottotraneo. Volevo fare dei piccoli filmati in piazza virgiliana dove c'era lo street food, ma mi è stato letteralmente impossibile perché, cioè, non ci si muoveva. Ci si camminava uno sopra con l'altro ed era letteralmente impossibile. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto un giretto per negozi. Come potete vedere c'è la borsina dello Strarivadius, che la Tita ha fatto compere. Oh, siamo arrivati finalmente alla macchinina. Eccola qui. Hai già preso tutto te? Sì. iPad, non iPad, sei a posto? Dai, sali. Mi lasciate qua? Ah, vabbè. Te lo dico io che è stata un'avventura questa gente. Oddio, non ci pa... E' sapere, ragazzi, altro che avventura. Lo dico io. Meglio sesso droga che a Roccarolla. Ma cioè, gente, è stato un macello? Il muro stai riprendendo il muro. Sì, sto riprendendo il muro del parcheggio della Mondadori. C'è una macchina che arriva. Sta parcheggiando. Adesso usciamo e poi gli faccio vedere un po' di riprese notturne. Andando verso Gazzuolo. Ragazzi, volevo farvi vedere uno scorcio del nostro paesino. Dove stiamo noi? Questo qui... Paesino, paesino, ino, ino, ino. Aspetta che metto. Sì, il nostro paesino. Sì, siamo in macchina, quindi c'è un po' di tremolo. Adesso qui è Gazzuolo, il paese in cui abitiamo noi. Cioè, come vedete... Cioè, manca un agino che gira. Cioè, è molto soft come paesino. Piccolino. Inti del soft. Insomma, sai, il più bello fatto di giorno, però insomma... Sì, ma non vi perdete in particolare da paese. Sì, insomma, c'è la via... Il centrale con tre negozi e basta. Ralenta, di cui... Un attimino... Adesso passiamo lungo il viale... Sempre scuro... Eh, lo so, è scuro, non so se ci parte. Guarda, abbiamo la... Grazie, abbiamo un carabiniere, non so se si vede. Guardate, non si vede. No, non si vede. Ok, neanche la tabella con scritta carabiniere. Non c'abbiamo manco quella. Adesso da Cazzuolo, che è il paesino principale, passiamo alla nostra franzioncina. Proprio piccolina, piccolina, eh. Ma fa tra più. Non c'è grossa. Che tra poi è prima della franzioncina che è il paese. Sa quella, no, guarda, non c'è grossa, è piccolissima, eh. Cioè, proprio sì. Ma che proseguo ancora, però non ci vediamo prima. Sì, sì, per mai. Sa qui la via centrale. Voi vedete tutto scuro, ma insomma vi volevo far vedere un attimino. E dopo c'è lo strip club, eh. Quanto sei spiritoso. Giriamo nella nostra viuzzina. Dove c'è lo strip club. Ecco qui la nostra viuzzina. Poco illuminatina perché... Poco, poco, poco. E già tanto che c'è. Sì, ci sono più macchine, macchine dei murosi, del vicinato. E lì è la luce del nostro cancellone automatico. Amore, commentiamo e non vedi più. Esatto. Eh, lo so, è un... Mi ho fatto vedere un pochino, pochino. Va bene. Va bene, abbiamo il gigio che tra un po' lo tiriamo sotto. Coniglio. 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 Guarda, ecco il nostro... Coniglio strasso, no? Non c'è più niente. Niente, ragazze, vi lasciamo al prossimo vlog. Ciao, ciao!